ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video decorazione agenda questa settimana la farò a tema viaggi utilizzando il kit della planners anonymous vi lascio nel pallino il link al video dove vi mostro il kit che ho acquistato quindi inizio subito con i tre washi quindi sempre quello cicciotto quello normale e quello più sottile e iniziamo la decorazione iniziamo Allora per i giorni della settimana utilizzo sempre le etichette quelle che ho scritto i giorni da lunedì e la domenica e poi andrò a scrivere io i numerini. Perfetto, ora vado ad utilizzare i clear stamp e utilizzo il colore appunto del tampone del kit così vediamo bene com'è. Vado a timbrare il mondo e utilizzo ovviamente la parte dove c'è le Americhe e l'Europa. Oh che carino! Ecco l'unica cosa forse avrei dovuto fare nel mondo staccato però vabbè non c'è problema. Noi troviamo sempre il modo di sistemare. Anche se non è perfetto non ci importa. E farei un altro timbro questo qui con la scritta Adventures Begins Year. Questo non è venuto benissimo va bene. Non importa. Poi volevo attaccare anche un paio di adesivi. Attaccherei. Ma questo magari lo uso per quando vado in ferie. Allora facciamo che su qua attacco questo pacchettino Happy Mail. Perché devo fare un acquisto online. Attacchiamo uno di questi. Sono talmente belli che mi dispiace usarli. E dai attacchiamo uno di questi con le foto. Magari qua. Ok e vado a segnare le cose allora. Ok per il momento. Direi che la decorazione va bene. Voglio andare anche ad aggiungere questo che è il bigliettino che c'era appunto nel kit. E voglio andarlo a inserire in questa settimana. Allora inseriamo la settimana. E la girl. Allora o la attacco in questo modo. Quindi con questa clip. Che però vado a coprirla. Oppure. Così. Potrei fare così. Sì. Aggiudicato con la clip a cuore. Quindi questa è la mia decorazione. Spero tanto che vi piaccia. A me non posso dire altro che piace tantissimo. Vi ringrazio per avermi seguito. Lasciatemi un bel pollice in su. Un commento. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.